Di nuovo devo partire manifestando ammirazione per i nostri avversari di oggi che sono una squadra veramente pericolosa e per Franco Ramondino, l'ultimo allenatore che mi stretto la mano dicendo di complimenti, buona vittoria è stato lui fa qualche mesi o due mesi fa e oggi per fortuna abbiamo potuto fare un bel secondo tempo e almeno levarci un pochino questa sciglia della spattola che ha sulla sua rotondessa per come giocano, vistamente come giocano, la precisione quando veramente posso muovere la palla come voglio in una posizione di tiro con una certa scioltezza e libertà, nel secondo tempo abbiamo stretto un po' le maglie, abbiamo difeso meglio, siamo stati più aggressivi, abbiamo corretto un po' di cose e questo ha alimentato anche un'attacca più fluido. Menion ha fatto una partita coraggiosa e soprattutto nel primo tempo un po' all'andata. Il primo tempo è stato scalente in difesa, il secondo tempo è stato migliore sicuramente, però questo è stato in campo. Amas ha fatto provare pronto, che è quello che gli chiediamo, e anche per finire con Kevin, Kevin non si fa provare pronto, sarà meglio che si faccia provare pronto, se no rischia di finire anche lui in margine di rotazione, noi vediamo quando faccia nessuno, mi importa nel nome, nel cognome, nello stipendio, nella nazionalità, stiamo arrivando nel momento, nel partitore, nel quale molto spesso non si possono fare regali, e il tuo carattico non si può dimenticarsi.